Paolo Fox, oroscopo di oggi 30 agosto, le previsioni segno per segno. Amore, lavoro, benessere, fortuna. Cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della tv? L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 30 agosto. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dalle sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Latte Miele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Oroscopo 30 agosto 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Oggi le tensioni potrebbero essere protagoniste della tua giornata, specialmente sul lavoro. La stanchezza si fa sentire e ti senti sopraffatto dalle energie in calo e da imprevisti che non avevi considerato. Cerca di mantenere la calma e di non lasciarti sopraffare dalla rabbia, anche se la situazione è stressante. In amore, è un momento delicato, presta attenzione alle complicazioni e cerca di non aggravare la situazione. Oroscopo 30 agosto 2024. Toro, 20 aprile, 20 maggio. Le stelle sono dalla tua parte, portando promesse di soddisfazioni entro la fine dell'anno. Anche se alcune giornate possono sembrare difficili, mantieni la fiducia, grandi traguardi ti aspettano. Tuttavia, è importante essere prudenti con le finanze, tieni sotto controllo i conti e limita le spese. In amore, potrebbe arrivare la risoluzione di un problema che ti ha preoccupato. Oroscopo 30 agosto 2024, gemelli, 21 maggio, 21 giugno. Oggi potrebbe essere una giornata sottotono per te. Qualcosa ti tormenta e ti rende suscettibile, portandoti ad irritarti facilmente. In famiglia, l'atmosfera non è delle migliori, e c'è il rischio di discussioni anche con gli amici. Prima di esprimere le tue opinioni, cerca di calmarti e di usare la diplomazia. In amore, la tensione è palpabile, evita di innescare polemiche e cerca di moderare i toni. Oroscopo 30 agosto 2024. Cancro, 22 giugno, 22 luglio. Le stelle sono dalla tua parte oggi, e questo è un buon segno. Anche se senti ancora un po' di stanchezza, la situazione è migliorata rispetto al passato. Continua a liberarti dallo stress e dall'ansia, piché non sono più necessari. In amore, potresti aspettarti qualcosa di speciale, ma per ora dovrai accontentarti di un dialogo ritrovato. Le emozioni forti dovranno ancora aspettare. Oroscopo 30 agosto 2024. Leone, 23 luglio, 23 agosto. Oggi presta attenzione alle tue finanze, piche potrebbero esserci spese inattese e che potrebbero causarti qualche preoccupazione. Anche se vieni da un periodo agitato, stai ritrovando energia e reattività per affrontare le situazioni difficili. Venere ti sorride, portando belle emozioni che ti aiuteranno a superare le difficoltà. Non sottovalutare l'importanza di questa positività. Oroscopo 30 agosto 2024. Vergine, 24 agosto, 22 settembre. Con la luna e Marte nel tuo segno, sei molto impegnato e potresti sentirti stanco. È un momento delicato in cui stai pianificando il tuo futuro, quindi non fermarti. Tuttavia, è importante dedicare del tempo anche al tuo rapporto di coppia. La passione sembra mancare, e sarà fondamentale ritrovarla per evitare che la routine soffochi la complicità nella relazione. Oroscopo 30 agosto 2024. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Le energie fisiche sono scarse, proprio quando avresti bisogno di tutte le forze per affrontare questioni complicate. Prenditi del tempo per rilassarti e ritrovare il benessere, magari con un po' di meditazione. Sul lavoro, sei pensieroso, e questo è normale in questo periodo. In amore, però, non lasciare che i tuoi sentimenti passino in secondo piano, è importante mantenere il legame con il partner. Oroscopo 30 agosto 2024. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Finalmente è tempo di ripartire. Dopo giorni tormentati, oggi ti aspetta una giornata carica di energie e buone notizie. La tua voglia di fare è tornata, ma non tutto è perfetto. In amore, attraversi un momento di tensione, quindi evita discussioni e polemiche. Quando sarai più sereno, sarà il momento giusto per parlare apertamente dei tuoi sentimenti. Oroscopo 30 agosto 2024. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Oggi è la tua giornata. Anche se la luna è contraria, non riuscirà a influenzarti negativamente. Sul lavoro, tutto procede nella norma, senza scossoni. Gli incontri saranno fortunati, specialmente per i single e per chi cerca nuove amicizie. Tuttavia, chi è in una relazione di lunga data potrebbe incontrare qualche ostacolo, nulla di irreparabile, ma richiederà un po' di attenzione. Oroscopo 30 agosto 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Hai una grande voglia di amare, e le stelle ti supportano. Se sei single, è il momento di guardarti intorno, perché la fortuna sorride agli audaci. Marte, in posizione favorevole, ti darà la spinta necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi. Non trascurare il lavoro in questo periodo, e continua a essere cauto nelle tue risorse economiche. Oroscopo 30 agosto 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. Oggi potrebbe essere una giornata difficile. Sei sopraffatto dagli impegni, nonostante i tuoi sforzi, lo stress ti rende intollerante verso tutto e tutti. Quando la tensione è così alta, cerca rifugio nell'amore, ma anche qui troverai agitazione e dubbi. Cerca di non farti sopraffare dalla negatività, e di trovare un momento di pace. Oroscopo 30 agosto 2024. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. C'è tensione nell'aria, ma non è colpa tua. Stai affrontando dei cambiamenti in vista dell'autunno, ma ne varrà la pena, perché arriveranno belle soddisfazioni. La luna opposta rallenta i tuoi progressi, quindi procedi con calma e pondera bene ogni decisione. Sei determinato a toglierti qualche sassolino dalla scarpa, fallo con saggezza e pazienza. Oroscopo 30 agosto 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Oggi le tensioni potrebbero essere protagoniste della tua giornata, specialmente sul lavoro. La stanchezza si fa sentire e ti senti sopraffatto dalle energie in calo e da imprevisti che non avevi considerato. Cerca di mantenere la calma e di non lasciarti sopraffare dalla rabbia, anche se la situazione è stressante. In amore, è un momento delicato. Presta attenzione alle complicazioni e cerca di non aggravare la situazione. Oroscopo 30 agosto 2024. Toro, 20 aprile, 20 maggio. Le stelle sono dalla tua parte, portando promesse di soddisfazioni entro la fine dell'anno. Anche se alcune giornate possono sembrare difficili, mantieni la fiducia, grandi traguardi ti aspettano. Tuttavia, è importante essere prudenti con le finanze, tieni sotto controllo i conti e limita le spese. In amore, potrebbe arrivare la risoluzione di un problema che ti ha preoccupato. Oroscopo 30 agosto 2024. Gemelli, 21 maggio, 21 giugno. Oggi potrebbe essere una giornata sottotono per te. Qualcosa ti tormenta e ti rende suscettibile, portandoti ad irritarti facilmente. In famiglia, l'atmosfera non è delle migliori, e c'è il rischio di discussioni anche con gli amici. Prima di esprimere le tue opinioni, cerca di calmarti e di usare la diplomazia. In amore, la tensione è palpabile, evita di innescare polemiche e cerca di moderare i toni. Oroscopo 30 agosto 2024. Cancro, 22 giugno, 22 luglio. Le stelle sono dalla tua parte oggi, e questo è un buon segno. Anche se senti ancora un po' di stanchezza, la situazione è migliorata rispetto al passato. Continua a liberarti dallo stress e dall'ansia, picché non sono più necessari. In amore, potresti aspettarti qualcosa di speciale, ma per ora dovrai accontentarti di un dialogo ritrovato. Le emozioni forti dovranno ancora aspettare. Oroscopo 30 agosto 2024. Leone, 23 luglio, 23 agosto. Oggi presta attenzione alle tue finanze, p che potrebbero esserci spese inattese e che potrebbero causarti qualche preoccupazione. Anche se vieni da un periodo agitato, stai ritrovando energia e reattività per affrontare le situazioni difficili. Venere ti sorride, portando belle emozioni.